buonasera amici benvenuti sul canale o bentornati per quei pochi iscritti che abbiamo fino adesso ma spero che si incrementerà perché stasera parleremo di una cosa molto interessante per tutti quelli che amano la musica per quelli che amano fare i dj per quelli che amano i professionisti della musica per quelli che amano suonare degli strumenti musicali per quelli che amano cantare per quelli che amano fare il karaoke per quelli che amano fare i podcast per quelli insomma per tutti i settori che riguarda la musica questo strumento secondo me non può più mancare nella regia di nessuno per quelli che amano semplicemente registrarsi a casa di che cosa parliamo parliamo di questo ve lo faccio vedere eccolo qua si chiama veringer la marca il modello è flow 8 di che cosa si tratta apparentemente è semplicemente un mixer ma in realtà è veramente solo un mixer beh è un mixer ma a differenza dei classici mixer con cui tutti quanti noi siamo abituati o perlomeno quelli che fanno per mestiere musica e magari così occasionalmente con gli amici si divertono chi organizza delle serate di karaoke chi al piccolo gruppetto musicale questo è un mixer digitale quindi sì sì avete capito bene un mixer digitale ma di dimensioni veramente molto ridotte oggi ve lo presento facciamo un velocissimo unboxing lo facciamo vedere anche con la telecamera di sopra faremo un piccolo unboxing si apre da questo lato lo facciamo vedere io l'ho già aperto l'ho già visto questo è un cavetto in più che ho messo io tiriamo fuori la piccola belva e voilà eccola qua tiriamo fuori c'è anche una scatolina manuale di istruzioni un simpaticissimo adesivo eccolo qua ma rimettiamo dentro da questa parte invece sono i cavetti in dotazione il cavetto in dotazione è un cavetto usb per il collegamento del bearing flow 8 al computer con usb type A e dall'altra parte usb type B e invece qui dentro c'è l'alimentatore che servirà per accenderla per adesso mettiamo da parte presentiamo semplicemente il mixer vi spiego un pochino delle funzionalità cerco di essere più veloce possibile per non annoiare buttiamo via tutto come vedete l'ho già aperto ma cerco di prenderlo ben custodito in maniera sicura per non distruggerlo bene amici come vedete è veramente piccolo guardate è alto meno della mia mano e lungo poco più della mia mano sì la mia mano è un po' grande però come vedete è veramente molto piccolo ecco di che cosa si tratta? si tratta semplicemente di un mixer che apparentemente sembra un mixer semplicissimo ma in realtà è un mixer digitale e non solo un mixer digitale ma anche di costruzione di una certa qualità direi perché Behringer in questo caso è bene quello che si dice che anche questo piccolissimo mixerino che vi faccio vedere vedete ha 1,2,3,4 ingressi microfonici dove potete attaccarci appunto dei microfoni potete attaccarci degli strumenti potete attaccarci quello che vi pare ma la caratteristica principale è che questi due sono di ingressi microfonici con preamplificatori Midas con la Phantom 48V la possibilità di collegare dei microfoni a condensatore che hanno bisogno appunto dell'alimentazione Phantom per alimentare appunto la capsule e il condensatore in questione quindi parliamo di un mixer veramente interessante quali sono le caratteristiche? 4 ingressi con possibilità di attaccare XLR invece da questa parte sono combo perché si possono attaccare sia gli XLR che il jack e poi abbiamo altri 4 ingressi che possono essere utilizzati stereo quindi dove possiamo mandare delle linee audio quindi che so l'audio di un computer da questa parte da questa parte di un lettore e piuttosto che invece degli ingressi in mono dove mandare non so una chitarra, un basso, insomma anche degli strumenti musicali qui sotto abbiamo i fader che corrispondono ai vari canali 1,2,3,4 corrisponderanno agli ingressi microfonici quindi 1,2,3,4 saranno questi mentre gli altri due comandano gli ingressi jack stereo quindi questi due verranno comandati dal cursore numero 5 e questi due dal cursore numero 6 cosa abbiamo da questa parte? l'uscita principale, il main mix, l'output del mixer con anche in questo caso un'uscita XLR per andare all'amplificatore o alle casse come mi pare è l'uscita cuffie con il suo potenziometro per poter regolare il db delle cuffie mentre da questa parte abbiamo ben due uscite monitor quindi se dovessimo fare un piccolo spettacolo dove ci sono 3-4 strumenti un paio di voci questo mixer si può utilizzare benissimo anzi direi che forse è lo strumento migliore che si possa pensare di utilizzare in questi casi perché è veramente ricco di tante cose è maneggevolissimo e vedremo nel corso delle spiegazioni per oggi spiegheremo solamente la struttura come funziona e alcune delle caratteristiche quindi dicevo, due uscite monitor le cuffie e anche l'ingresso per un pedale per esempio per una chitarra per gli effetti della chitarra mentre da questa parte, qui giù questa manopola è il volume del main e poi qui ci sono altri tasti come vediamo FX1, FX2 beh sì, perché questo mixer ha anche gli effetti come tutti i mixer direte sì, come tutti i mixer però questi sono degli effetti che si comandano in digitale quindi la qualità è regolabile veramente in maniera molto curata molto sovraffine vi spiegherò come il tasto mute e poi e qui il tasto dei monitor del main perché come mixer digitali bisogna passare da un menu all'altro ma utilizzeremo sempre gli stessi comandi quindi se per esempio io vado su FX1 in questo momento starò utilizzando i comandi per dare gli effetti sui canali gli FX, gli effetti il primo tipo di effetti se vado su FX2 darò FX2 sui vari canali se vado sul monitor manderò il segnale dei vari canali sul monitor 1 o sul monitor 2 se invece tengo il premuto del main noi andremo ad utilizzare i father per andare a costruire l'uscita main quello che andrà all'amplificatore mentre qui abbiamo un piccolissimo display che è diciamo così lo schermo, il computerino di questa micromacchina ma grandiosa da dove potremo scegliere tutte le varie opzioni di selezione per quanto riguarda gli effetti per quanto riguarda il routing dei vari ingressi uscite insomma tante di quelle cose che andranno a essere selezionate da questo mixer questo è fondamentalmente la struttura fisica del mixer ma la cosa bellissima di questo mixer è che può essere utilizzato semplicemente come un mixer oppure può essere utilizzato come una fonte di registrazione da inviare a un PC in quel caso ah, dimenticavo una cosa molto importante abbiamo anche questo piccolo cursore perché sì, è vero che il flow 8 8 sta per i vari ingressi che come vediamo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ma in realtà è 8 più 2 direi perché forse direi anche 8 più 2 più 2 perché in realtà oltre questi ingressi possiamo mandare un'altra fonte audio tramite il bluetooth che vediamo indicato qui ve lo faccio vedere da questa telecamera questa è la fonte di bluetooth e questo sarà il potenziometro per variare il volume del bluetooth ma non finisce qui c'è anche la possibilità di collegare questa al computer per mandare l'audio al computer ma in realtà possiamo anche utilizzare il cavo USB che abbiamo visto prima quello type A, type B per mandare dal computer l'audio a questo mixer che verrà sempre utilizzato tramite questo canale oppure poi vedremo come si fa si può andare a scegliere di mandare l'audio in uno dei fader che preferiamo noi quindi insomma è veramente molto versatile mixer digitale quindi bisogna comandarlo in maniera digitale quale soluzione migliore se non quella di avere un mixer che si può comandare con il telefonino e non solo dal telefonino potremmo anche da qui potremmo andare a variare dei parametri molto importanti quale equalizzazione e vi dico amici che ha 4 bande di equalizzazione per i canali la possibilità di inserire un compressore possibilità appunto di inserire il compressore per tutti i canali e poi la possibilità di inserire un limite sul main quindi se vogliamo montare delle cose in cui abbiamo il rischio che qualcuno magari dia un accento eccessivo su una chitarra o sulla voce che rischia di far andare in picco tutto l'impianto noi possiamo impostare un limite sul master incredibile questo lo fa non solo sul master avremo una equalizzazione a 9 bande sempre digitale fatta dal telefonino e sempre dal telefonino potremmo andare a scegliere i vari effetti da inserire sui canali quindi due effetti mi pare che sono 16 effetti per ogni canale di effetti e anche scegliere il tempo del delay tramite il basso tap che sarebbe questo qui quindi insomma un mixer veramente molto interessante che io ho scelto di prendere perché da oggi utilizzerò questo piccolissimo strumento e vedrete che chi verrà a cantare riuscirà ad avere un suono davvero professionale vi ricordo ancora una volta ingressi Canon Phantom di preamplificazione Midas quindi parliamo di grande qualità mixer digitali quindi possibilità di inserire compressori equalizzatori limitatori insomma è veramente una macchina piccolissima dalle grandissime capacità se vi interessa se vi piace se siete curiosi di sapere come funziona questa macchina che vi faccio vedere da tutte le parti da questa parte abbiamo l'ingresso di alimentazione l'unica cosa che insomma la vedo un po' economica che hanno fatto è quella di mettere un'alimentazione micro USB avrebbe potuto utilizzare una Type-C probabilmente più duratura più efficace e meno rischiosa e poi da questa parte quello che abbiamo visto prima l'USB Type-B per collegarlo al computer non c'è nient'altro tutto il resto è sul fronte l'utilizzo di questo mixer sarà veramente fantastico per quei gruppetti che vogliono fare una mini band e possono mettere questo insomma vicino allo strumento ed è piccolissimo e gestire alla grande tutto quello che riguarda il suono dei loro strumenti delle loro voci o ancora meglio mettersi semplicemente un piccolo tastierino o un tablet da cui poter gestire ah dimenticavo ci sono anche questi due piolini qua ve li faccio vedere frontali ve li faccio vedere anche data camera in alto telecamera in alto uno e due a cosa servono beh semplicemente a mettere qui un tablet o un telefonino e utilizzare tutto dal vostro mixer è fantastico per me si voi che ne pensate volete qualche altra informazione su come funziona vi faccio vedere anche se volete nei prossimi video le schermate dell'app tutto in italiano perché in Italia ancora non ne parla nessuno di questo mixer quindi se volete vi faccio vedere anche come funziona l'app come si gestisce il mixer dall'app e magari poi facciamo anche qualche prova audio io l'ho già provato è veramente incredibile è veramente molto 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 bello e interessante fatemi sapere cosa ne pensate grazie al prossimo video ciao ciao